Sì, la so, vedete le mie umbe, sono stupende. Comunque, come vi ho detto, però ho fatto una diretta su Instagram dove ve lo dicevo. Sono qui per le famose, per il famoso Ask Ludo Love, perché me l'avete chiesto, no, ci in tanti, però nella mia classe mi hanno, io ho chiesto, mi potete dire che video posso fare, e loro mi hanno appunto chiesto, cioè, mi hanno appunto fatto delle domande, vedete un po' stufocato qua, non vi preoccupate, è la cover, quindi sì, cioè è la cover, è la pellicola, quindi scusatemi, e quindi sì, mi hanno fatto alcune domande, eccolo qua, prima voglio farvi dire questo, guardate quanto è bello, bucciosissimo, poi è morbidissimo, vedete, faccio vedere così, vabbè, comunque, iniziamo con l'Ask, ah, scrivete giù nei commenti Ask Ludo Love, la prima domanda ce la fa Aurora Sodano, tutti quelli che dico, dei nomi, li saluto, Aurora Sodano, ciao Aurora, ci dice, sembra stata fidanzata, sì, poi un'altra domanda che ci dice, è, cosa vuoi fare da grande? Cioè, io non lo so, perché, credo che vorrò fare la truccatrice, però non lo so ancora, perché, sono un po', devo andare a studiare per fare la truccatrice, anche se me la cavo tantissimi trucchi qui, che voi immaginate, non sono più quelli là che vi ho fatto vedere nei video, quella però ne ho comprate altri di più, quindi sono tantissimi, quindi dopo vi farò, se volete vedere tutti i miei trucchi, e comunque continuiamo. Un'altra domanda ce la fa Morena Memoli, ti piace Pietro? Se no, perché? Allora, questa qua, non lo so se posso rispondere, però io direi più di no, però non rispondo lo stesso. Allora, la maggior palla, facciamo, mi, aia, io, diciamo, mi piace, al cin, no, diciamo, facciamo al 70%, dai, 70% sì, 30% no, quindi sì. Poi, Simona Bongo, ciao Simo, e mi è mandata a quel paese da madre, e perché? Sì, l'ho mandata a quel paese tantissime volte, il perché è sempre uno, mi dà fastidio. Poi, sento, Giulia Molinario, se mi è stata fidanzata all'asilo? All'asilo da quel che ricordo no, però potrebbe essere, potrebbe anche, potrebbe anche esserci, però diciamo di no. Quel che mi ricordo io no, poi non lo so. Poi, Chiara, Giorgione, ciao Chiara, se ne ho mai detto ti amo, sei sì, chi? È rimasto un po' di attaccato. Comunque, quello che mi ricordo no, nessuno, no. Poi, Gianluigi lo conta, ciao Gianluigi, io ti odio, ci fa, ma ti droghi? No. Sessi, vorresti piacere a Lorenzo con questo metodo? No, Lorenzo, no, no, non sarei mai così. Cioè, proprio nonno Peppo, il famoso nonno Peppo, che è il Luigi Schiavo, che saluto, però non vedrà mai questo video, però, sono Nino. Quindi sì, fa delle domande, prima delle due domande sceme, poi fa la domanda vera e propria. Fa, ti posso uccidere? No. Ma sei rimbambita? tanto. Ti vorresti fare, la domanda normale, ti vorresti fare i capelli colorati? Ci ho pensato, però non volevo io fare colori tipo viola, giurro, celeste, giallo, no. Vorrei fare solo le punte, da qui alle punte, un color miele, quindi un pochino mesce, però più chiaro, più scuretto, capito? Un po' chiaro, un po' sul cioccomiele facciamo, dai, come dice Cesca, gioccomiele, quindi sì, color miele, dai. Poi abbiamo Angelo Sebastiano, ciao, mi dice, di chi sei innamorata? Si chiama Adriano, si chiama Adriano, 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 Adriano. Poi, abbiamo Ariessandra Scaperotta, ciao, vale. Ti sei mai avuta da un trampolino? Sì, purtroppo sì, in piscina la tartaruga, ci sono, però non un trampolino alto, ci sono quei trampolini piccoli nelle piscine dei grandi, però non è che mi butto io, mi butto i miei amici. Sì, non l'abbè mai fatto. Jasmine, Jasmine Scausillo, che mette sempre gli slag, io ti odio. Vabbè, no, scherzo. Che dice? Hai mai fatto una scuola di a scuola? No. Vado a toccare un po' il mio squishy. Poi abbiamo il famoso Matteo Agostino, che ci chiede? Si è mai piaciuta una donna? No. Ma, cioè, Lorenzo. Qual è la... Lorenzo Molinario, ciao. Matteo, ciao. Comunque, Lorenzo Molinario. Qual è la tua canzone preferita? Secondo me... Secondo me, tipo, despasito. Despasito. Quindi despasito che... Morina, tu mi capisci a me. Mi si. Morina. Poi, Manola Raduazzo, ciao. Chi è la tua migliore amica? La mia migliore amica? Non lo so che potrebbe essere. Però penso Giulia. Giulia Molinario. Poi abbiamo... Allora, la nostra domanda ci fa. Qual è la messa che odi di più? Lo sanno tutti. La messa d'inglese. Pier. Qual è la canzone che odi di più? Pier. Quindi, con la verità, secondo me, Sorry, di Justin Bieber. Tutte quelle di Justin Bieber io li odio, perché Justin Bieber mi fa schifo. E l'ultima è Maria Antonietta, che ci chiede. Qual è la materia che odi di più? Inglese. Aspetta, inglese e storia. Inglese e storia è già tantissimo. Cioè, io non lo sopporto proprio inglese e storia. Schifo. Comunque, recensione sono squishy. Potete trovare questo squishy al costo di un euro, oppure su i cinesi sopra a casa mia, al costo di 50 centesimi. Ci sono anche quelli normali, quelli grandi, o il panda proprio rotondo. Quelli della Polimaro, però non proprio delle Polimaro, Polimaro, Polimaro. Però questi qua penso che siano della Vlampo, penso. Cioè, non dico proprio Vlampo, Vlampo, però. Vedete, cioè, di quanto è morbido. Penso che siano della Vlampo. Proprio della Vlampo, perché la Vlampo sono davvero morbidi. Ah, sì, dalla Jaguarà. Così qua, sicuro Jaguarà devono essere. Perché se non sono Jaguarà, ciao. Non lo vorrei tagliare, però non lo... Salute! Penso che ci andrò a togliere questo. Oppure me lo toccherò al dito. Porta chiave all'unghia. Comunque sì, cioè. Regaliamo sorrisi. Squishy. Togliamo lo stress. Non mi fanno venire lo stress e sti cosi. Però sono troppo bucciosi e troppo morbidi, ragazzi. Potete andare a comprare dai cinesi. Oppure potete trovare a Romics Jaguarà Ponymaro su internet. Comunque, mi do anche la call. Per fare lo slime. Passi, buona. Comunque sì. Queste qua erano le domande che mi avete fatto. Quindi commentate giù nell'info... Vabbè, dai, sì. Commentate giù nei commenti scrivendo Hashtag... Hashtag... Ma c'è così, aspetta. Hashtag... Ludo... Love. Hashtag Ludo Love. Hashtag Ludo. Quindi sì, commentate. Abbiamo tanti commenti, tanti like. E consigliatemi di video giù nell'info box. Vi mando un bacione. Grande, grande. E saluto anche Ramona Santella. Ciao. Vedi. Adesso non ho scaperato tanto di vedere questo video. E anche me ne ho detto anche. Francesco Panza. Checco Panza. Dai, mi senti male. Checco. Panto penso. Panto pensino. Panto penso. Quindi saluto a tutti questi qua. Sui video le domande. E ora. Quando mi faccio un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.